O Dio che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e con vita nella tua protezione veredici quanti transiteranno per questa scadinata, il tuo angelo li preceda e li accompagni perché superata ogni insidia giungano sani e salve alla meta desiderata a te gloria nei secoli dei secoli, Anna, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Anna Avete ripreso il fiato? Possiamo iniziare Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza a nome di tutti